Lucy, è ora di tornare. Ancora qualche minuto. Ho visto la mia casa dallo spazio. Non realmente, ma ho visto la mia vita. Sì, c'è stata. Come, scusi? Il maggiore Goodwin ha una teoria per cui capisce dallo sguardo chi è stato nello spazio. È più di una teoria. Devi osservarla attentamente. Ti mostrerà come fare. Sono così fiero di te. Ti amo fino alla luna e ritorno. Sai che è Michael Collins? Certo, Apollo 11. Ha pilotato il modulo di comando per Neil e Buzz. Quindi sai che dopo averli depositati là sopra, ha girato intorno alla luna per ore? Mentre era nel modulo ha scritto, ora sono veramente solo, lontano da qualunque forma di vita conosciuta. Sono io. Tesoro? Amen. Devo tornare lassù. Non stai certo ringiovanendo. Dovrai lavorare ancora più duramente. Guardati, sei tutta ad un pezzo. Non hai mai sbagliato niente nella tua vita. Ho sbagliato molte cose, invece. Davvero? Stupissimi. Il dottor Plimpton dice che hai saltato le ultime tre sedute. Sto dando tutto per il programma, per questa missione. Mi spiace dirlo, ma la ragazza è stata piuttosto incoerente ultimamente. Cola, annullare. Negativo, posso finire. Cola! È una tosta. Levatele il casco! Ma non tutti possono affrontare lo spazio. Ti rimuovo dalla corsa all'Orion. No, se io fossi un uomo lei mi... Come scusa? So cosa stai facendo. Ma ti assicuro che perderai. Perché io sono una vincente. Questa non è un'esercitazione, Kadetta. Prendi la tua roba. Cosa stai facendo? Comincio seriamente a preoccuparmi per lei. Ti stai comportando in modo assurdo. Sto bene. Pronti al lancio. Com'è la Su? È l'unico posto dove tutta ha un senso. Immagino. Curiosità horror. Sapevate che la colonna sonora del film Cult La Cosa di Carpenter e curata dal maestro Ennio Morricone ebbe addirittura una nomination ai Razzi Awards per la peggiore del 1982? Beh, nonostante questo smacco, diciamo, è diventato un cult esattamente come il film. Ragazzi, grazie per la vostra attenzione. Se vi piace la mia maglietta, solo per horror fan, trovate in infobox il link per comprarla. E io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie per la vostra attenzione.